Educhiamo ad un amore puro con il mito di amore psiche. Il mito di Apuleio racconta il viaggio dell'anima alla scoperta dell'amore puro, al contrario di quello che spesso è concepito nella nostra società. Se vuoi scoprire la trama del mito amore psiche, leggi nella caption di questo video. La protagonista di questo mito, psiche, attraverso l'amore scopre se stessa e la dimensione maschile. L'amore dunque è concepito come un'esperienza che divinizza e che porta alla scoperta del sé. L'amore quindi può salvare a patto che ci sia un sentimento autentico. E diventa quindi un invito al coraggio ad affrontare colui che pensiamo di amare. Solo rendendoci conto di chi abbiamo accanto riusciamo a purificare il nostro eros rendendolo così autentico. Quello di amore psiche può essere inteso come il percorso, le sfide che ognuno di noi deve affrontare all'interno di una coppia. Ma sempre con la consapevolezza di ciò che si desidera. L'amore quindi per essere autentico deve essere un cammino di crescita parallele. Per fortuna il mito di amore psiche ha un lieto fine e speriamo di poter sempre ascoltare delle storie con un bel lieto fine.